Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti veloci al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, burro, uovo, lievito per dolci vanigliato, pasta di limone o la scorza grattugiata di un limone e aroma di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina, lo zucchero, il burro, l'uovo, l'aroma di limone, la pasta di limone e il lievito. Ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 6. La frolla è pronta, prepariamo i biscotti. Prendere una piccola quantità di impasto, formare una pallina, posizionarla sullo zucchero semolato e schiacciarla con i rebbi di una potetta e posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Proseguire così per il resto del composto. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. I biscotti sono cotti, lasciare raffreddare completamente prima di servire. Biscotti veloci al limone. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!